Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Allora io volevo solo cucinare il cibo per Charlie E questo è quello che ho combinato Boh ho spaccato qualcosa Del frigorifero E niente I miei mi ammazzano Ha finito tutto Però guardate come cammina Charlie vieni qua Vieni qui Ma cosa fai? Oh ma cosa fai? Ma tesoro sono tua mamma Ciao